Dottor Ingravallo, senta, mi manna il commissario capo, abbassò ancora la voce, a via Merulana, è successo un orrore, stamattina presto, hanno telefonato che erano le dieci e mezza, lei era appena uscito, il dottor Fumi lo cercava, tra tanto mi ha mannato subito a vedere con due agenti, credevo quasi di trovarlo là, poi ha mannato a casa sua a cercarlo, beh che è stato, lei ce lo sa già, e che ha già sapere, ma un meglio vos passo, hanno tagliato la gola, ma scusi, so che lei è un po' parente, parente de chi, fece ingravallo accigliandosi, come voler respingere ogni propinquità con chi si fosse, volevo dire amico, amico, che amico, amico e chi, raccolte a tulipano le cinque dita della mano destra, altalera quel fiore, nella ipotesi digito interrogativa, tanto in uso presso gli Apuli, ha trovato la signora, la signora Balducci, la signora Balducci, ingravallo in pallidi, afferrò Pompeo per il braccio, tu sei pazzo, e glielo strinse forte, che allo sgranfi a parve glielo stritolasse una morsa ad una qualche macchina, sordottò, l'ha trovata suo cugino, il dottor Vallarena, Valdassena, hanno telefonato subito in questura, e ma è là pure lui, a via Merulana, ha dato disposizioni, ma detto che lo conosce, dice, alzò le spalle, dice che era nato a trovarla, per salutarla, perché adanna a Genova, salutarla a quell'ora, dico io, dice che l'ha trovata stesa a terra, in un lago di sangue, madonna, dove l'avemmo trovata puro noi, sul perché, in camera da pranzo, stesa di tre verso, con le sottane tirate su, come che dicesse mutanne, il capo rigirato un tantino, con la gola tutta segata, tutta tagliata da una parte, ma se vedesse che taglio, dottor, congiunse le mani come implorando, si passò la destra sulla fronte, e che faccia, che a momenti svengo, già, fra poco dovrà vederlo, un taglio, che manco il macellaro, beh, un orrore, due occhi che guardavano fisso fisso la credenza, una faccia stirata, stirata, bianca da fare un panno risciacquato, che, era tisica, come se avesse fatto una gran fatica a morire, in cravallo pallido, emise un mugolo strano, un sospiro, un lamento da ferito, come se sentisse male puro lui, un cinghiale con una palla in corpo, la signora Balducci, Liliana, babbetò guardando negli occhi lo sgranfia, si tolse il cappello, sulla fronte, in margine al nero cresputo dei capelli, un allinearsi di gocciole, un sudore improvviso, come un diadema di terrore, di dolore, il volto, per solito olivastro bianco, lo aveva infarinato l'angoscia, andiamo va, era madido, pareva esausto, giunti a via merulana, la folla, davanti al portone il nero della folla, con la sua corona d'erote di bicicletta, fate passare, polizia, ognuno si scostò, il portone era chiuso, piantonava un agente, con due pizzardoni e due carabinieri, le donne li interrogavano, loro dicevano alle donne, fate largo, le donne volevano sapere, tre o quattro, già, se sentì che parlavano dei numeri, erano d'accordo per diciassette, ma discutevano sul tredici, i due salirono in casa Balducci, l'ospitale era che in gravallo conosceva, si può dire, col cuore, sulle scale un parlottare di ombre, il sussurro delle casigliane, un bimbo piangeva, in anticamera nulla di particolarmente notevole, il solito odore di cera, l'ordine abituale, eccetto che due agenti muti attendevano disposizioni, sopra una seddola un giovane col capo tra le mani, si alzò, era il dottor Valdarena, apparve poi la portiera, emerse cupa e cicciosa all'ombra del corridoio, nulla di notevole si sarebbe detto, entrati appena in camera da pranzo, sul perché, tra la tavola e la credenza piccola, a terra, quella cosa orribile, il corpo della povera signora giaceva in una posizione infame, supino, con la gonna di lana grigia e una sottogonna bianca buttate all'indietro, quasi al petto, come se qualcuno avesse voluto scoprire il candore affascinante di quel deossus, o indacarne lo stato di nettezza. Aveva mutande bianche, di maglia a punto gentile, sottilissimo, che terminavano a metà coscia in una delicata orlatura. Tra l'orlatura e le calze, che erano in una lieve luce di seta, venudò se stessa la bianchezza estrema della carne, un pallore da clorosi. Quelle due cosce un po' aperte, quei due elastici, in un tono di lilla, parevano distinguere in grado. Avevano perduto il loro tepido senso, già si adeguavano al gelo, al gelo del sarcofago delle taciturne di more. L'esatto ufficiale del punto a maglia, per lo sguardo di quei frequentatori di domestiche, modellò inutilmente le stanche proposte d'una volutà, il cui ardore, il cui fremito, pareva essersi appena esalato dalla dolce mollezza del monte, da quella riga, il segno carnale del mistero, quel che Michelangelo, don Ciccio ne rivide la fatica a San Lorenzo, aveva creduto opportuno di dover omettere. Pignolerie, la saperde. Le giarretti aretese, ondulate appena agli orli, in una ondulazione chiara di lattuga. L'elastico di seta lilla, in quel tono che pareva dare un profumo, significava a momenti la fra le gentilezza e della donna e del l'eleganza spenta degli indumenti, degli atti, il secreto modo della sottomissione, tramutata ora nell'immobilità di un oggetto, o come di uno sfigurato manichino. Tese le calze, in una eleganza bionda, quasi una nuova pelle, datane, sopra il tepore creato, dalla fiaba degli anni nuovi, delle magliatrici blasfeme. Le calze incorticavano in quel velo di loro luce il modellato delle gambe, dei meravigliosi ginocchi, delle gambe un po' divaricate, come ad un invito orribile. Oh, gli occhi! Dove? Chi? Guardavano. Il volto. Oh, era sgraffiata, poverina, fin sotto un occhio, sul naso. Oh, quel viso! Com'era stanco! Stanco, povera Liliana, quel capo, nel nimbo che l'avvolgeva dei capelli, fili tuttavia operosi della carità, affilato nel pallore il volto, sfinito e maciato dall'assuzione atroce della morte. Un profondo, un terribile taglio rosso le apriva la gola, ferocemente. Aveva preso metà il collo, dal davanti verso destra, cioè verso sinistra, per lei, destra per coloro che guardavano, sfrangiato ai due margini come da un reterarsi dei colpi, lama o punta. Un orrore, da non potesse vedere. Palesava come delle filacce rosse all'interno, tra quella spumiccia nera del sangue, già raggrumato a momenti. Un pasticcio, con delle bollicine rimaste a mezzo. Curiose forme, agli agenti, parevano buchi al novizio, come dei maccheroni color rosso o rosa. La trachea, morvolò in gravallo chinandosi, la carotide, la giugulare. Dio! Er sangue aveva impiastrato tutto il collo, er davanti della camicetta una manica. La mano, una spaventevole collatura ad un rosso nero, da faiti o da cengio, l'un ciccio rammemorò subito, con un lontano pianto nell'anima. Povera mamma! S'era cagliato sul pavimento, sulla camicetta, tra i due seni. S'era tinto anche l'orlo della gonna, il lembro vescio di quella vesta di lana buttata su. E l'altra spalla? Pareva si dovesse raggrinzare da un momento all'altro. Doveva, de certo, risultarne un coagulato tutto appiccicoso come un sanguinaccio. Il naso e la faccia, così abbandonata e un po' rigirata da una parte, come da chi non ce la fa più a combatte. La faccia era assegnata alla volontà della morte. Apparivano feci da sgraffiature, da unghiate, come ci avesse preso gusto quel boia a volerla sfregiare in quel modo. Assassino! Gli occhi si erano affisati orrendamente. Ma guarda che poi? Guardavano, guardavano in direzione, non si capiva de che, verso la credenza grande, in cima in cima, o al soffitto. Le mutandine non erano insanguinate. Lasciavano scoperti di due tratti delle cosce, come due anelli de pelle, fino alle calze, d'un biondo lucido. La solcatura del sesso. Pareva essere ostia d'estate, o a forte de marmo di viareggio, quando sostriate sull'arena a coces, e te fanno vedere tutto quello che volno. Con quelle maie tirate e tirate d'oggi a giorno. In gravallo a capo scoperto pareva lo spettro di se stesso. Domandò. L'avete mossa? No, dottore, gli risposero. L'avete toccata? No. Il sangue era stato portato attorno dai tacchi, dalle suole di qualcuno, sul perché di legno, che poi si vedeva bene che ci avevano messo trentoli piedi in quel pantano de spavento. In gravallo si irritò. Chi era stato? E te ne massa de burini, minacciò brutti caprali della sgurgola. Uscì nel corridoio, e in anticamera. Si rivolse al dottor Valdarena, accacciato a di una sedia de quelle de cucina, co Pompeo che c'aveva l'aria de staia intorno come un figlietto alla madre. La portiera non se vedeva più. Era scesa in guardiola. Forse l'avevano chiamata.